Allora, torno all'ammutinamento del Bounty e siamo qui con il duo, come sta andando la serata o sta per iniziare comunque? La serata sta per iniziare, c'è bella gente vedo, quindi sicuramente sarà una bella serata in compagnia del mio grande chitarrista Andrea Macri, io sono Nino Carta e noi siamo i The Blue Horizon. E come è nata la passione per la musica? La passione per la musica è vecchissima, la sua era un bimbo che andava alla quinta elementare, già suonava la chitarra, io canto da tantissimo tempo, ci siamo ritrovati e siccome le esperienze musicali poi a un certo punto si incontrano, ci siamo incontrati e abbiamo deciso di fare questo duo acustico. Che tipo di musica fate? Prattamente pop, rock, blues, cerchiamo di rivisitare i grandi classici del rock, del pop e del blues, chiaramente fatti a modo nostro. Vi ispirate a qualcuno? Particolare diciamo? Sinceramente cerco di dare un'interpretazione mia al cantato, Andrea c'ha degli amanti, lui ama tantissimo Eric Clapton, Pat Metini, c'è tutta bella gente che con la chitarra insomma sa cantare, sa far cantare la chitarra. Da quanto tempo suonate insieme? In effetti è pochissimo, però è come se le nostre esperienze unite insieme ci avessero fatto conoscere già molto tempo fa. Da quanto comunque suonate insieme? Come vi siete conosciuti musicalmente parlando? Ci siamo conosciuti musicalmente con delle amicizie comuni che ci hanno fatto incontrare e ci siamo resi conto che potevamo formare questo duo. Come stai trovando la serata qui? Ma sinceramente come dicevo prima vedo bella gente, è un bel giovedì sera con tante persone, quindi sicuramente andrà bene. Sono i ragazzi del Blue Horizon, insomma mantengono il solito feeling tra musica e scena, diciamo con i nostri piatti, la solita routine diciamo del giovedì. Il freddo non ferma le persone, comunque scendono e è un piacere venire qui al Bounty? Ma sì, diciamo che come serate non possiamo lamentarci, però abbiamo avuto di meglio. Ritorna l'ammutinamento e ritorna naturalmente il buon cibo, le belle persone e la buona musica? Sì, come sempre siete tutti invitati, ogni giorno siamo aperti qui per voi collegati al Bounty Pub. Il Bounty non fa solo il giovedì, se non sbaglio c'è anche il lunedì come serata comunque in cui si organizza il karaoke. Sì, è da un annetto a questa parte quasi che il lunedì con il karaoke riusciamo a creare un'altra serata in questa piccola città.